iscriviti al canale per un divertimento senza fine agata una strega nei guai prim sei il miglior cucciolo del mondo wow che bel costume grazie è perfetto per la notte più misteriosa dell'anno la notte delle streghe mangia bebé streghe? ma non esistono è solo una festa una festa con streghe cattive che trasformano i bebé in topi e poi li mangiano mangiano? lo scherzo torna indietro ehi dreamy sei pronta per halloween? ma certamente no no su ferma accelera avanti ops scusa la testa cosa? mai visto un gatto parlante prima? sei tu stormy ok continuiamo l'allenamento ok ok riprendiamo ma perché non vola? è la scopa ha perso i suoi poteri sono la peggior strega del mondo forse è perché una bebé non magica ci ha visto il manuale delle streghe dice che è proibito lo so bene forse l'incantesimo non funziona più perché non usi una stregoneria sulla scopa? non è così difficile sì certo ma ma quale? come diventare giganti? no trasformarsi in rana? no ecco qui come volare? ho solo bisogno di una lacrima di formica le scarpe di un millepiedi ah un cane cosa c'è spot? wow che bel costume da strega sembra che stare insieme a bebé non magici non limiti i miei poteri certo è un costume sono agata una bebé come tanti sono dotty cosa stai facendo? solite cose da bebé niente di magico ah è una ricetta che cos'è? una torta mi mancano degli ingredienti puoi aiutarmi? ma certo che bello forza è tutto nella norma cosa succede? è uno scherzo non è divertente? sì mostruosamente delizioso un momento questa non è la mia scopa au ops scusa di una vera strega guardate è magica è di una strega stava volando e il gatto parla le streghe non esistono ma come? ora vedrete cucù ehi ecco qui bene no 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 ehi guardate deve essere la strega sì sì come no andiamo ora vedrete vuole mettere Dotti nel calderone e mangiarla dobbiamo aiutarla andiamo le streghe non esistono guarda tu stessa il calderone è così caldo che ti viene voglia di fare un bagno non è vero Dotti? le streghe esistono le streghe esistono te l'avevo detto salviamo Dotti corriamola tutte insieme magari si spaventa non mangerai Dotti fermi le streghe non mangiano i bebè quindi le streghe non sono cattive aiuto è tutta colpa mia sono la peggior strega del mondo beh non proprio la peggiori il gatto parlante stai solo imparando il manuale avrà la soluzione fidati di te idea eccolo l'incantesimo giusto brava incantesimo del tempo la porta si aprirà e tutto come prima tornerà ce l'ho fatta sì sì che giornata beh alla fine Connie aveva ragione le streghe esistono e sono buone però non sono molto brava sciocchezze muovi gli oggetti schioccando le dita sai usare gli incantesimi e poi di quella scopa ma la magia più bella di oggi è stata trovare voi grazie per la vostra amicizia Magic Tears è tornata wow questa è davvero la notte delle streghe il fantasma moccioroso parte 1 hai un bel mucchio di cose strane guardate un libro di incantesimi wow facciamo un incantesimo sì che bello se lo fate apparirà un fantasma un fantasma non date l'eretta non esistono incantesimi per i fantasmi incantesimo per evocare un fantasma ma che cos'è un fantasma? sono esseri che vivono nei castelli spaventano la gente e fanno oh che noia i fantasmi non esistono vado io in giro a far paura non preoccuparti Lala so dove è l'uscita occhio di rospo dente di orso vieni tra noi fantasma moccioroso ecco Ali è venuta a prenderci comunque sia non funziona per niente questa magia i fantasmi esistono solo nei film fantasmi? come no oh no mi hanno evocato ehi sapete dove mi trovo? ok ok non c'è fretta un attimo oh devi aiutarmi eccoli lì i nostri fazzoletti di stoffa ma che schifo Lala devi pulire ehi aspetta non mi senti? non mi vedi? devo riuscire a tornare se rimango qui per più di un giorno svanirò nel nulla per sempre concentrati bene ehi dovete aiutarmi Dotti non ci fai paura beh a me in realtà un po' di paura è venuta e aveva un sapore misto di arancia e fragole ehi aiutatemi Dotti è inutile non mi vedono mi serve il libro ti ho presa che succede? non lo so oh il libro il libro Dotti basta cosa? che cos'hanno quelle luci? ehm non sei stata tu sono appena arrivata non hai mostrato il cespuglio? no e nemmeno la macchina? no quindi se non è stata Dotti e non c'è nessun altro? no no la Lulu deve essere stato il fantasma mozzoroso oh la magia funziona dobbiamo trovare il fantasma e ricacciarlo dentro al libro sì ma è proprio un vero fantasma? io con i fantasmi non voglio averci nulla a che fare dov'è Lady? l'abbiamo preso la caccia al fantasma mi ha messo fame fatemi uscire un attimo cos'è questo? sembra lo stesso moccio che c'era a casa di Lala deve essere il fantasma mozzoloso guardate quanto moccio e quanta polvere io ho un po' di paura questo moccio è disgustoso non mangiarci mangiarvi? bleh voglio soltanto tornare nel mio libro si sta meglio lì dentro cosa? volevi solo tornare a casa? mi sentite? certo quando tocco il libro potete sentirmi dovete aiutarmi ho soltanto un giorno per tornare dentro al libro altrimenti svanirò per sempre ci dispiace fantasma non volevamo farti paura certo ti aiuteremo è di stile guardate questo è il mio mondo occhio di orso dente di rospo no abbiamo invertito le parole guarda il libro è rimasto lì per terra portiamole bebé ciao ciao siamo qui perché non ci vedono? oh no siamo fantastici aaaaaah 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 un libro di incantesimi vieni tra noi mi hanno evocato un fantasma? ho soltanto un giorno per tornare dentro al libro occhio di orso perché non ci vedono? siamo fantasmi aaaaaah aaaaaah il fantasma moccoloso parte 2 liberate la vostra mente ispirate aaaaaah guardate eccole lì e hanno preso il libro ehi siamo qui non possono vederci né sentirci mi è venuta un'idea aaaaaah 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 ai dinamica che fatica cerchiamo un posto più tranquillo sono super concentrate non sarà una cosa facile ci sono seguitemi fatto come nuovo grazie infinite ehi dove sono le altre? coni lia mmm non saprei l'ultima volta che le ho viste cercavano un fantasma oh davvero? e se gli fosse successo qualcosa persino i loro cuccioli sono scomparsi i fantasmi non esistono andiamo a cercarle il libro è là andiamo quasi ah ah oh oh tina cerchiamo un altro posto non riesco a concentrarmi qui oh non siate tristi ricordatevi se non possono vederci noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ahahah 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 forza concentrati brumi ah oh che succede? vuole al contrario ahahah ahahah oh brumi i suoi voli sono un disastro lady lala coni secondo le mie previsioni dovrebbero essere eh è disgustoso è il fantasma mocioloso seguiamo le tracce non è molto divertente se loro non sanno che siamo noi oh no il tempo sta per scadere e se non riusciamo a prendere il libro scompariremo anche noi vogliamo tornare a casa ci sono tracciamo una scemociolosa per terra l'ascia di moccio punta verso la casa di lala andiamo respiriamo e non ci deconcentriamo aah che cos'è? aspetta altro moccio serve il nostro aiuto e là c'è qualcun altro lì dentro cosa ci fate qui? i bebè hanno fatto un incantesimo per aiutarmi ma si sono trasformati in fantasmi anche loro hanno attraversato il portare per prendere il libro ma non possono fare ritorno ci resta meno di un'ora dopo di che spariremo tutti oh no dobbiamo trovarle che cosa vedi Tina? aspetta i bebè sono scomparsi mentre cercavano un fantasma ripeto sono scomparsi erano loro andiamo dove siete bebè? dateci un segno coraggio facciamoci vedere sono qui dove c'è il moccio? sono sicura ma non possiamo vederle mi è venuta un'idea che c'è? quello è il fischio di allarme presto lancia il tuo glitter sopra il cerchio di moccio con gran piacere ecco era proprio necessario usare il tuo glitter Rosy siete qui ma come facciamo a farle tornare bebè? oh no siete davvero fantasmi ehi wow 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 che bello finalmente presto ci restano solo pochi secondi dovete ripetere l'incantesimo per tornare a casa solo voi potete farlo occhio di rospo dente di orso torna al tuo mondo fantasma mozzolodo grazie bebè grazie bebè magic here wow wow l'acqua è bellissima wow yeah wow 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 il mistero di Halloween bene adesso la zucca più a sinistra a destra a sinistra a destra mi fate girare la testa a sinistra o a destra mettetevi d'accordo per favore va bene non preoccuparti ti aiuto io a destra adesso non un pochino che cosa ti prende adesso? un mostro va bene così? sono nella direzione giusta? dove devo colpire? non si capisce una parola mi sembri un elefante con il raffreddore mi sento molto bene che cosa è successo? vieni Spot sta per cominciare la festa di Halloween oh c'è una zucca zombie vai piano calmati non ti agitare così ah ho capito dici che è Bonnie? cosa ti è successo? ti sei incastrata? no non vuole uscire meglio che andiamo alla festa e ci facciamo aiutare anche se comunque la zucca è un costume perfetto per Halloween sei sicuro di non voler aspettare fino a domani? aiuto il mostro è tornato non è un mostro Dotti se dai la mano a un mostro lui te la può mordere non pensate di esagerare un pochino dove andate? ma non è un mostro è Bonnie guardate il mostro sta piangendo da quando in qua piangono i mostri? forse è vero che è Bonnie ve lo sto dicendo da un sacco di tempo ha la testa incastrata nella zucca mi dispiace averti chiamato mostro ti aiuto io non ti preoccupare ma non così gli puoi fare male ci sono potremmo mangiarci la zucca la zucca cruda che schifo dobbiamo provarci tutti insieme conto fino a tre uno due tre facciamolo un'altra volta finalmente liberi la zucca ha la zucca è vero si Sì!